12 minuti con pesetti per tonificare la parte superiore del corpo. Una sessione breve con tempi alti da combinare ad altri workout. Iniziamo! Ok, iniziamo. Due distensioni in avanti e due circonduzioni in avanti. Scaldiamo bene tutta la parte alta. Respiro. Naso e bocca. Ancora qualche secondo. 5, 4, 3, 2, 1. Cambio. Spinte dietro. Due spinte e cambio braccio. Due spinte e cambio braccio. Scaldiamo bene tutto il corpo. Riattiviamo tutti i muscoli. Prima di iniziare l'allenamento. Un bel riscaldamento. Ancora 3, 2, 1. Apertura. Braccia indietro. Apro un braccio e ruoto il tronco dallo stesso lato. Alterno le braccia. Prima braccio destro e ruoto a destra. Poi braccio sinistro e ruoto a sinistra. Vai. Respiro. Non forzare il movimento. Ancora 3, 2, 1. Passo laterale più pectoral. Passo laterale e pectoral con la parte alta. Scaldiamo bene tutto il corpo. Sia la parte alta che la parte bassa. Vai. Esercizio successivo. Passo laterale più apertura braccia. Gomiti fissi. Tra 3, 2, 1. Vai. Tocco le spalle e allungo. Tocco le spalle e allungo. Manteniamo il passo laterale. Respiro. Testa dritta. Esercizio successivo. Passo laterale più doppio bicipite. 3, 2, 1. Cambiamo il movimento. Vai. Sulla parte alta doppio bicipite. Scaldiamo bene le braccia. Ancora movimento laterale a destra e sinistra. 10 secondi. Respiro. Testa dritta. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Ora lavoreremo solo il braccio sinistro per ben 5 esercizi. 3, 2, 1. Vai. Una mano appoggiata sul ginocchio. Stendo e fletto solo l'altro braccio. Gomito bloccato vicino al tronco. Stendo e fletto solo un braccio. Non ti fermare. Continua. 20 secondi. Resisti. Ancora qualche secondo. Vai. Respirazione sempre attiva. Ancora 10 secondi. E passiamo al rematore su un braccio. Sempre sullo stesso braccio. 3, 2, 1. Stesso braccio. Ruota il braccio portando il gomito dietro la schiena. Controlla il movimento. Respira. Mantieni sempre la posizione iniziale. Gambe piegate. Mano sul ginocchio. Testa dritta. Ruota il braccio portando il gomito dietro la schiena. Resisto fino alla fine. Ancora 15 secondi. Mantieni sempre la respirazione attiva. L'esercizio successivo. Alzate laterali su un braccio. Sempre lo stesso braccio. Resisti. 3, 2, 1. Braccio semiteso. Sollevo lateralmente. L'altra mano appoggia sul fianco opposto. Le gambe sono piegate. L'addome contratto. Tieni la testa dritta. Lavoriamo sempre sullo stesso braccio. Apertura. Laterale. Vai. 20 secondi resisti. Il braccio è semiteso. E sollevo lateralmente. Ancora 10 secondi. Resisti. Massima attivazione. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Appoggio il pesetto. Riprendiamo il nostro tappetino. Esercizio successivo. Bicipite più spinta in ginocchio. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Un ginocchio a terra. Bicipite a martello. E spinta. Sempre e solo con il braccio sinistro. Non cambiamo il braccio. Il polso non ruota. Mi raccomando. Bicipite e spinta. Sempre in posizione a martello. Un ginocchio a terra. Piede davanti è ben appoggiato. Mano sul fianco. La testa è dritta. Bicipite a martello. E spinta. Sono due esercizi. Ancora respirazione. Sempre e solo con il braccio sinistro. 5, 4, 3, 2, 1. Ultimo esercizio. Con il braccio sinistro. Resisti. Rematore un braccio da terra. Vai. Ginocchio in sospensione. Porta il gomito dietro la schiena e torna. Non appoggiare mai le ginocchia a terra. Resisti. L'addome contratto per mantenere l'equilibrio dell'esercizio. Respiro. Controllo bene tutti i movimenti. Con una mano mantengo la posizione. Non scendo con le ginocchia a terra. E vado col rematore sull'altro braccio. 5, 4, 3, 2, 1. Ottimo lavoro. Respiro. Sciolgo un pochino. Facciamo scaricare un po' il lavoro sul braccio sinistro. Ora ripetiamo tutto dall'altro braccio. Lavoriamo sul braccio destro. Partiamo con tricipite e busta a 45 gradi su un braccio. Vai. Una mano appoggiata sul ginocchio. Estendo e fletto solo l'altro braccio. Gomito bloccato vicino al tronco. Iniziamo col primo esercizio solo sul braccio destro. 20 secondi. Vai. Respirazione. Testa dritta. Il gomito è vicino al corpo. Estendo e fletto. Ancora. Esercizio successivo. Rematore su un braccio. 3, 2, 1. Sempre sullo stesso braccio. Ruota il braccio portando il gomito dietro la schiena. Mantengo sempre la posizione. Gambe semipiegate. Gambe semipiegate. Busto in avanti. Testa dritta. L'altra mano sul ginocchio. Mantengo l'equilibrio. Lavoro sempre solo sulla destra. Respirazione. Ancora 10 secondi e il nostro esercizio successivo è l'alzata laterale sempre solo sulla destra. 3, 2, 1. Ancora sulla destra. Braccio semiteso. Sollevo lateralmente. L'altra mano appoggia sul fianco opposto. Cerca di tenere la testa dritta. Respira. Le gambe sono divaricate per non scaricare il peso sulla schiena. E l'addome contratto. Controlla bene il tuo corpo. E solleva il braccio lateralmente. Attiviamo il lavoro sulla spalla. Vai. Resisti ancora solo 10 secondi. Non ti fermare. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Respiro. Sciolgo un pochino il braccio. 10 secondi di recupero. Ripartiamo con bicipite più spinta in ginocchio. 3, 2, 1. Un ginocchio a terra. Bicipite a martello e spinta. Sempre solo con il braccio destro. Attenzione il polso che non ruota. Bicipite e spinta sempre a martello. Sali e spingi. Sali e spingi. Piede frontale ben appoggiato a terra. Testa dritta. Respiro. Bicipite e spinte sempre in posizione a martello. Sempre solo il braccio destro. Ancora. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ultimo esercizio con il braccio destro. Rematore su un braccio da terra. 3, 2, 1. Vai. Ginocchio in sospensione. Porta il gomito dietro la schiena e ritorna. Controlla il movimento. Non appoggiare mai le ginocchia a terra. Addome contratto. Mantieni l'addome contratto per mantenere l'equilibrio. Non appoggiare mai le ginocchia a terra. Resisti ancora solo 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Recupero attivo. Respiro. Scarico il lavoro. Ripartiamo con lo stretching tricipite da terra. Ottimo lavoro. 5, 4, 3, 2, 1. Afferra un gomito. Porta il braccio dietro. E mantieni la schiena dritta. Allarghiamo bene le gambe. Facciamo un bello stretching totale. Per la parte alta e per la parte bassa. 5, 4, 3, 2, 1. Stretching spalla da terra. Stesso braccio. Braccio teso. Lo porto al petto. Premo delicatamente con l'altra mano all'altezza del gomito. Spalle basse. E resti in posizione. 5, 4, 3, 2, 1. Dall'altra parte afferra l'altro gomito. Gambe divaricate. E mantengo la posizione. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Stretching spalla da terra. Stesso braccio. Il braccio è teso. Lo porto al petto. Le spalle sono basse. Rimango in posizione e respiro. 3, 2, 1. Cambio. Divaricata frontale. Ci alziamo in piedi. Allarghiamo bene le gambe. Scendiamo in divaricata frontale senza forzare il movimento. Testa rilassata. Approfitto per respirare. E scarico. 5, 4, 3, 2, 1. E risali. Ci siamo. Il tuo allenamento è finito. Ci vediamo al prossimo allenamento. Vamos! Alla prossimo allenamento.